Versetto 7, Gesù osservava che alcuni invitati sceglievano volentieri i primi posti, altrimenti che alcuni appena si esploditi la fa a Potoc, perché notate, essendo un pranzo ufficiale di fatto, invitati dal loro capo, praticamente più uno può sedersi vicino al padrone di casa, più vuol dire che nella gerarchia locale è importante ricoprire un ruolo particolare, quindi che ti capiti un posto o l'altro non è la stessa cosa, non è uno di quei pranzi dove magari gli invitati si mettono a smettrare amici, più che chiedersi se sono vicino o lontani da festeggiato o da chi organizza, in questi casi invece più sei vicino, più il tuo ruolo conta, più sei lontano, sei uno di tanti. Per loro raccontò questa parabola, quando sei invitato a nozze non occupare i primi posti, perché potrebbe esserci un invitato più importante di te, in questo caso lo sposo sarà costretto a venire da te a dirti cedili il posto, allora tu pieno di vergogna dovrai prendere l'ultimo posto, invece quando sei invitato a nozze va a sederti all'ultimo posto, ho notato che non dice un pranzo qualunque, il pranzo è per eccellenza che è quello di nozze, quando sei invitato a nozze va a sederti all'ultimo posto, quando arriverà lo sposo ti dirà vieni amico, prendi un posto migliore, avvicinati a me e questo sarà per te motivo di onore di fronte a tutti gli invitati, perché ricordate chi si esalta sarà abbassato, chi si umilia sarà esaltato. Di cosa sta parlando qui Gesù del Galateo? Gli interessa davvero il Galateo a tavola? Oppure attraverso questa regoletta così banale se vogliamo sta parlando di qualcosa di molto più importante, non presumere di sé, avere un po' di buonsenso e non guardare solo la voglia di l'immagine, la preoccupazione per la propria immagine, sembra semplice ma mica vero o no? Per tutti e due la figlia. E infatti far di sé stesso un perno, un centro, quindi è davvero un invito, che poi stia parlando di qualcosa che ha a che fare addirittura col senso della vita, lo dice con la massima finale, l'assetto 11, chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato, cioè questo richiama a un qualcuno che va al di là, chi è che ti umilia, chi è che ti esalta, il tuo vicino, il concorrente o quell'altro, il tuo pianoatico, però no, a questo punto però, guardiamo se vi ricordate qualche cosa, cosa vuol dire umiltà, chi è umile, umile umiltà? Vuol dire vivere in magia la semignazza di Dio. Wow, andiamo, facciamo le risposte per gravi, andiamo proprio a zoom! Eh? In cosa consiste l'umiltà? Perché lo scopo è quello, vivere in magia la semignazza di Dio. Da un po' di vita. Cioè? Da un po' di vita. Da un po' di vita. Umile, umiltà, a che fare con una parola? Umus. Terra. E l'umus che cosa è? Terra. Terra umida, preparata per accogliere la vita. Giusto? Da umus viene umile. Umidis, infatti, in latino. E viene anche uomo. Rifacciamo cinque minuti di ripasso. Cos'è che rende l'uomo un uomo? Cos'è che fa in modo che l'uomo sia un essere umano? Cos'è che lo distingue dagli animali? La dignità che ha. Su cosa è fondata la dignità? Sulla coscienza. Su la consapevolezza. E cos'è la consapevolezza? Sulla consapevolezza. Allora, lei ha detto che la parola umiltà, cioè la terra, tradotta in ebraico è adanà. No, no, tradotta in ebraico è adanà. E a questo punto questo tuo nome è un simpazzo. Infatti, umus in ebraico si dice adanà. Diventa un uomo, quindi adanà. E Dio cosa utilizza per costruire l'uomo? La adanà. Ecco perché l'uomo si chiama adanà. Perché è fatto di adanà, fatto di terra. In che capitolo della Genesi si dice questo? Primo, secondo, terzo, quarto o quinto? Primo? Quando parla dell'uomo dice che è un uomo. No. Quello dopo? Il secondo. E il lato dopo? Questo lo dice nel secondo capitolo della Genesi. Quando lo mette al primo posto, posso dire che è un uomo. Quando dice la terza. Esatto. L'uomo diventa adanà quando ti riponde dentro. La nè sciamà e la rua. La rua nè sciamà. La rua nè sciamà. La rua è il suo più vittà. Beh, beh. Qualcosa resta pian piano. Dopo vittà. Ogni vent'anni una cosa va di qua. Oh, no. Va benissimo. Quindi ne ha ancora 300 a disposizione. Perciò minimo. Minimo. Sapevi passare domande. Le risposte sapevi passare domande. No? Anche domande? Sì, ecco. Comunque, perciò dire una cosa, signori. Il capitolo 2 parla di Adamà. Ma per capire cos'è per la Bibbia questa Adamà, bisogna confrontarlo con il capitolo 1. Il capitolo 1 parla di Adamà? No, non parla. Allo versetto 26 dice che Dio fa un consiglio di famiglia e decide di creare l'uomo. Facciamo l'uomo come? La nostra immagine e somiglianza. Non parla di Adamà, parla di immagine e somiglianza. Nel capitolo 2 parla di Adamà, ma non di immagine e somiglianza. Vuol dire che per l'autore biblico, la Adamà del capitolo 2 non è nient'altro che l'immagine e somiglianza del capitolo 1. E qual è l'immagine di Dio? Che Dio ha rivelato di sé a noi? Tante cose. Delle poche che ha detto, insomma, sono tante poche nel nostro tempo. Non dici chi è davvero. Però qualche sua caratteristica. Dice che Dio è uno che conosce, che sa, è parola, è verbo, è comunicazione. È uno che conosce, è uno che ama e addirittura Dio è amore. E soprattutto è padre, figlio e spirito, cioè comunità di persone, è relazione profonda. Se tu togli la relazione al Dio di Israele, sparisce tutto, non esiste. E in sé stesso è padre, figlio e spirito. In riferimento a noi, come si chiama? Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Mosè, Dio di Gesù. E' Dio che entra in relazione con, è qualificato dalle sue relazioni. Non è che non sia Dio da solo. Dio può prima creare l'uomo, ci mancherebbe. Però a noi si rivela sempre così. Quindi sottolinea quale aspetto suo, che lo caratterizza, la sua capacità di entrare totalmente in relazione con qualcuno. Compromettersi per qualcuno. Quindi quando diciamo qual è l'immagine di Dio in noi, la sua capacità di conoscere, la sua capacità di amare, la sua capacità di relazione. Vi ricordate queste cose, no? Sì o sì? E queste tre cose sono nient'altro che la Adama, con cui è costruito Adam. Per cui quando è, cosa che mi rende uomo, e queste tre qualità ce le dà come? Soffiando in noi la ruanisma. Ma questo soffio di consapevolezza, non è soffio di vita appena. Questi erano anche gli animali. Infatti animale vuol dire che ha l'anima, che ha il soffio vitale. Però non hanno la ruanisma o nishama. Questo è specifico per l'uomo nella Bibbia. Ma se a rendermi uomo è questo. Questa realtà, fatta di queste tre caratteristiche, capacità di conoscere, capacità di amare e di entrare in relazione, sono qualcosa che mi qualificano perché sono bravo io? O sono qualcosa che sono in me, agiscono in me perché le ho ricevute come regalo? Questi sono il dono di Dio. Quel dono di Dio in noi, ci dice la Bibbia, che fa di noi esseri umani, che si distinguono dagli animali. Ma se tutto questo, che è quello che fa di me stesso, che mi fa essere quel che sono, è un regalo che ho ricevuto, cosa vuol dire essere uomo? Riconoscermi come regalo? Ecco, l'uomo umile è umile quando riconosce che ciò che lo fa un uomo è un regalo che ha ricevuto. Quindi non è orgoglioso, non si vanta, non pensa di essere più degli altri perché lui ha questo e gli altri no. L'estra mia lui ha da sei. Siamo d'accordo su questo? Sì, sì. Questo vuol dire essere umile. Riconoscersi come dono. R. C. D. Se parto dall'amore di Dio, se parto dal nostro, non era? S. S. No, allora ci illudes. S. S. Stiamo dicendo se mi riconosco come regalo. Se manca che era, addio. Mi sembra parte dall'amore di Dio. Aspetta, cosa che stiamo facendo? Sì, ho capito. Ma se io resto, se parto un po' aspetta che abbiamo subito la differenza che abbiamo subito aspetta, aspetta, aspetta aspetta Piero un secondo Piero scusate noi abbiamo fatto tutto questo discorso perché Gesù dice che chi si umilia sarà esaltato chi si esalta sarà umiliato umiliarsi e essere umiliati è la stessa cosa? no, è il contrario umiliarsi è essere io che sono consapevole di quel che sono e quindi non mi vanto, non mi impongo, non pretendo per me eccetera eccetera essere umiliato è essere messo al mio posto che mi piaccia o no facendosi brutta figura spesso e volentieri Gesù dice sta attento perché se tu nel tuo orgoglio ti credi padrone di te stesso e ti vuoi esaltare ta sa freget questo è un dramma per cui se non fai un discorso d'amore ma una pretesa la fai diventare una pretesa tua ecco ti freghi la vita ce lo dice Gesù uno è scultato però quando la dice è vero, è vero senza usare la parola amore però ce lo dice chiaro per cui farsi umili è saggezza essere umiliati è una fregazione è una scopassa perché le potenti le parole si assomigliano molto ma sono due realtà totalmente diverse ma non finisce qui l'insegnamento di Gesù va avanti ancora se già qui non è semplice perché in fondo in fondo cos'è che dice Gesù imparate la gratulità imparate aver di voi un'opinione giusta ma ma con il pentero non svolazzante chissà dove col padrone di casa è peggio è più duro poi Gesù disse a colui che lo aveva invitato quando offri un banchetto un pranzo una cena non invitare i tuoi amici e fratelli i tuoi parenti i ricchi che abitano vicino a te essi infatti hanno la possibilità di invitarti a loro volte a casa loro e tu in questo modo hai già ricevuto la tua ricompensa pendi soldi per niente ti freghi invece quando offri un banchetto chiama poveri storpi c'è gente che sai che non può ricambiarti allora avrai motivo di rallegrarti perché questi non hanno la possibilità di ricambiarti l'invito Dio stesso ti darà la ricompensa alla fine quando i giusti risorgeranno allora chi di noi se la sente di chiamare in casa gente che non conosce per far festa e lasciar fuori quelli che conosce gli apparenti amici vi sembra giusto farlo? è un'esagerazione quella che dice Gesù ma cos'è che vuol dirci? perché per Gesù non è una cosa semplice imparare a fare le cose gratis per esempio inviti anche parenti e amici ma non perché loro li tengono conto perché ti contraccambino perché poi se ricordi ne facciano questo o quest'altro per ottenere qualcosa no gratis ma loro quando fanno le loro feste non mi invitano mai perché dovevo invitarli io e a te che te ne frega se ti invitano o no è il contraccambio che vuoi o un atto di generosità a fondo perduto perché ti piace una volta ogni tanto averli qualcuno quindi è proibito invitare parenti e amici ma ci mancherebbe però è importante che sia fatto con animo gratuito senza aspettarsi niente dopo tirarsi in casa gente che non conosci oggi come oggi per esempio è sempre più difficile quello è vero insomma bisogna stare attenti perché che tipo di gente è perlomeno perché purtroppo in giro un sac de senza avere paure che bloccano tutto però un po' di attenzione in base specialmente alle situazioni di famiglia famiglia quella più serena dove sono autosufficenti hanno una certa età quando ci sono ragazzini ci sono tante situazioni diverse però è importante davvero quel che si fa farlo gratis non per avere qualcosa un ritorno ma è vero che poteva quasi fare senza dire Gesù queste cose perché per noi è spontanea fare le cose gratis sì o sì ce n'è ancora quando fanno certi pranzi certi certi momenti addirittura prime comunioni battesime eccetera invitiamo quello lì se non lo inviti dopo lui magari se ne andrà male per questo per quest'altro forse mi occorre al voto dopo i calcoli i calcoli i calcoli comunque se poi che chi è invitato sia contento o meno e sarebbe più contento di non essere invitato ma non finisce qui questo è il secondo round che è il secondo